Ben trovati da TG della mobilità, da oggi dalle 20 alle mezzanotte, vede i fori imperiali e vede i cerchi tra i via di San Gregorio e i via della Ramassima di Ercole saranno chiuse al traffico per lo svolgimento di alcuni spettacoli di strada, su via dei cerchi dalle 18 e 30 scatterà anche il divieto di sosta, sette linee di bus saranno deviate su percorsi alternativi, le chiusure serali sono previste fino al 23 agosto. Da lunedì nella zona sud della città sarà in strada una nuova linea della rete ATAC, la 712, che collegherà i quartieri di AXA, Malafrede e Giardino di Roma con l'Eur e la Metro B. I capolinea saranno all'AXA e alla stazione Eurfermi della Metro B. La linea sarà attiva tutti i giorni dalle 5.30 alle 23.30. I capolinea saranno all'AXA e alla stazione EurFantola.